I carabinieri della compagnia di Rivoli hanno arrestato due rapinatori seriali che tra l'agosto e il settembre 2017 armati di pistola e a volto scoperto hanno messo a segno diverse rapine nel torinese. In manette sono finiti Arber Metaglia, albanese di 29 anni senza fissa dimora e Emanuele Ravanetti, 39 anni di Lavagna in provincia di Genova. I due sono ritenuti responsabili degli assalti agli uffici postali di Alpignano e di Grugliasco e di una rapina a un supermercato di Torino. Ora devono rispondere di rapina aggravata in concorso. Il traforo del Frejus diventerà più caro. Con l'obiettivo di incentivare il rinnovo delle flotte dei mezzi di trasporto su gomma verso veicoli meno inquinanti, sono previsti rincari scaglionati delle tariffe, il primo già il prossimo mese di gennaio. Il più 2,04%